ragazzi nere azzurri buongiorno buona domenica vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina qua qui ebbene sì qui è tutto gratis io oggi sono felicissimo anche perché ho la lasagna a pranzo stamattina ho fatto la corsetta proprio per potermi permettere una lasagna che sai l'età la va avanti bisogna allenarsi il metabolismo e gli rallenta quindi ragazzi allenatevi che già allenandovi vi mettete di buon umore usatela questa cosa stamattina poi eh mentre e prima di farmi la la diciamo prima di farmi la dolce io sì ho fatto delle risate clamorose perché ho letto un articolo dove il giornale anche di tutto rispetto opinabile prestito ottri il piano di Zang se vi ricordate ragazzi cinque giorni fa in un video andate pure a riprenderlo non ci sono problemi di cosa stai ragionando non lo so dov'è il cinese è inutile che tu continui a chiedermelo non lo so dove è sparito ma quattro giorni fa io dissi qualora prendessero un esame il riscadenziamento ottri vuole soldi perché sono tre anni che non vede un euro quindi stamattina scrivono che Zang attenzione stamattina scrivono che Zang devo leggere perché non voglio sbagliare stamattina scrivono che Zang che non mette non investere nell'Inter da quattro anni offre cento milioni per riscadenziamento invece di andare a coprire le perdite quindi secondo questi fuori classe Zang offre cento milioni per riscadenziare se ne fotte delle perdite perché lui vuole andare avanti tra l'altro se te leggi bene leggi bene l'articolo a parte gli scherzi ragazzi cioè eh quest'articolo dipinge ottri come un branco di incapaci praticamente no? Li dipinge come dei ragazzi allo sbaraglio che non sanno minimamente fare il proprio mestiere cioè secondo questi fuori classe ottri a due mesi dalla scadenza di un peak bond di 275 milioni non hanno ancora bene le idee chiare e devono cedere a Zang perché sì devono dire sì Zang va bene perché loro non hanno eh le idee chiare quindi devono accettare questa sorta di posizione perché ottri non ha alternative io non ho mai visto a parte che non ho mai visto un presidente per me quello non sarà mai il mio presidente ma io non ho mai visto un personaggio così protetto io non ho mai visto in tutta la storia del calcio un presidente così protetto soprattutto da certi giornali perché voi dite che i giornali sono contro l'Inter non è vero i giornali sono contro di noi ma non contro di lui attenzione bisogna essere onesti i giornali non sono contro l'Inter sono contro noi tifosi e contro la squadra ma non contro il presidente dall'altro poi stamattina parlano anche di questa Batson di questo sponsor eh che poi alla fine della fiera sarebbe un main sponsor a trenta milioni più bonus e sembra che stia che l'Inter stia aspettando una derogare al decreto dignità e contro la ludopatia cioè a me queste robe sinceramente mi fanno un po' schifo cioè l'importante che la l'unica cosa è vincere e basta che arrivino i soldi cioè bisogna anche vedere come arrivano questi soldi qui cioè secondo me sarebbe anche un autogol del governo concedere una roba del genere anche perché nella storia dell'Inter comoratti pellegrini lo so giuse delle cose sono cambiate per l'amor di Dio ma fammi esprimere la mia opinione la posso esprimere la mia opinione oppure no o siamo sotto regime cinese anche su YouTube comoratti pellegrini cioè questi tipi di sponsor non sono mai avvicinati all'Inter ma di cosa stai ragionando cosa vogliamo andare al giro con la scritta star casinò davvero ma siamo pazzi o cosa ma siamo matti qui ma che cazzo c'è ragazzi ma siamo fuori di testa o no qui ma te poi no in giro per le squadre toppe europee fatti un giro perché noi no ormai siamo una squadra toppe europea giusto per le squadre toppe europee te vedi marchi di battling io non li vedo cioè te vedi marchi di battling come me i sponsor sulle maglie tra le squadre toppe europee io non le vedo queste robe qui non le vedo conta anche l'immagine la storia dell'Inter ma poi c'è una cosa che i fuori classe devono capire di questo bezzo non come si chiama io non sapevo nemmeno vabbè che è star casino poi alla fine cioè occhio perché questa roba qui potrebbe dare il contrasto anche con marchi che già sponsorizzano uff e fifa cioè ragazzi ma allora innanzitutto io voglio l'ufficialità del riscadenziamento dall'articolo si capisce che navigano che navigano così a vista perché è un articolo scandaloso dove dipingono altri come gente sprovveduta b non dicono anche servono 160 milioni perché la uefa ha dato in posizioni di mettere per la prossima stagione a posto il patrimonio netto quindi zang praticamente se ne fotte delle perdite non mette un euro da quattro anni ma tira fuori cento milioni che sarebbe secondo questi fuori classe il rimasuglio del prestito di optri quindi con il debito di optri lui va a coprire gli interessi di un altro debito perché voi state scrivendo questo ragazzi per l'amor di dio state facendo il vostro lavoro rispettabilissimo ma voi state scrivendo questo che con il debito fatto con optri lui prende i soldi di quel debito è risposta non per pagare un debito gli interessi di un altro debito ma siamo fuori fottendosene delle perdite rinviate cioè capisce c'è qualcosa non mi torna allora giuse giuse aspettiamo l'ufficialità del rifinanzamento poi dopo ne parliamo io voglio questa roba sia ufficiale anche questo sponsor è ufficiale non mi sembra che sia ufficiale poi magari lo diventerà e ci mancherebbe perché ormai ragazzi parliamoci chiaro questo è un sistema il mondo calcio il sistema è tenere in piedi la juve la juve non dovrebbe più esistere ma questo sistema addirittura si permette di dire che va salvaguardato il brand di una società di calcio e solo quest'anno a due squalificati uno per doping e uno per calcio scommesse di cosa stiamo ragionando qui e a me comincia a farmi un po schifo sta roba mi capisci perché io non sono un tifoso della juve io sono un tifoso dell'inter tra l'altro tra l'altro tra l'altro nulla tra l'altro c'è c'è questo articolo maccheronico definirlo maccheronico e dire può dove parlano di altri come questi non lo sanno altri cosa sono riusciti a fare in cina con even grande si dovrebbero informare quindi questi sprovveduti praticamente di optrisi come non vogliano l'inter ma quello è vero perché lo hanno dichiarato ufficialmente cosa dovrebbero fare dovrebbero tra virgolette cedere alle posizioni di zang parliamo di calcio la roma la roma io ne parlavo con michele della chat che saluto saluto anche francesco marbulli con cui parlavo prima saluto tutti i ragazzi della chat della chat whatsapp dei che sono erati la roma io lo lo dissi due settimane fa sempre parlando con michele la roma è la squadra che ci ha messo più in difficoltà di tutte e se avesse avuto davanti invece di un paracarro un attaccante serio ci avrebbe messo in gravissime difficoltà la roma la roma ad oggi è la squadra dall'inizio della stagione ad ora ovviamente che ci ha messo più in difficoltà di tutte complimenti a De Rossi perché dopo quella brutta esperienza che ha avuto alla spalla non era facile rialzarsi De Rossi si è rialzato si è migliorato ha studiato si è migliorato vedi a volte l'umiltà il rimettersi in discussione lo studiare cioè vedi alla fine se studi se lavori vieni prima vieni premiato per forza i risultati arrivano e ragazzi la roma gioca un calcio spettacolare complimenti a daniele De Rossi poi c'ha anche un certo di bala e comunque con la palla non è margheritoni cioè di bala o la palla margheritoni tecnicamente è forte ci mancherebbe ma di bala con la palla sa cosa farci cioè quindi ehm complimenti alla roma bisogna riconoscerlo ed è la squadra infatti che con quel gioco lì di De Rossi ci ha messo più in difficoltà di tutti e poi da lì a dire che quei ritmi non li puoi tenere 90 minuti e quello lì è un altro discorso ragazzi nulla e io sento già il profumo della lasagna e cosa vi devo dire passate una buona domenica magari se ho tempo più tardi una mezza live un altro video ora vediamo un po ciao aspettando il rifinanziamento